Si tratta di diventare immortali, di far sì che il tuo nome venga ricordato per l'eternità. Bisogna saper aspettare, come i coccodrilli, nel fango. Nessuno sa quando arriverà la seccità. E gli animali dovranno attraversare il Sahara, ma noi aspetteremo mesi, anche anni. E le gazzelle e gli gnù attraverseranno le acque e quando arriveranno li azzanneremo. Mi ascolti, figliolo? Noi li azzanneremo così forte che quando urleranno il mondo intero li sentirà. Tu supererai chiunque, tu sei un gigante, sei un colosso tra gli uomini. Se ascolterai, un giorno tu regnerai come un dio. E ignoravo cosa cazzo fosse una gazzella. Ma nessuno aveva mai parlato bene di me. Ne volevo di più. La bocca... Grazie.